In collegamento da Napoli, Antonietta Toraldo, ci troviamo fuori la sede della Regione Campania per un sit-in organizzato dal Movimento 5 Stelle per approvare la mozione che lo stesso Movimento 5 Stelle ha presentato in Regione Campania per promuovere un ricorso costituzionale contro la riforma della buona scuola. Ascoltiamo l'intervento dell'onorevole Luigi Gallo. Insieme lo possiamo costruire diverso attraverso la mobilitazione della scuola, ma si sta anche programmando una stagione referendaria seria con 350 organizzazioni che si sono incontrate a Bologna. 350 organizzazioni che hanno deciso di istituire un comitato tecnico con costituzionalisti ed esperti di legislazione, un comitato politico per scegliere i quesiti importanti che toccano la vita di tutte le persone nel mondo della scuola, ma anche toccano la vita dei genitori e degli studenti. Quindi noi non lasceremo intentata nessuna strada, però tutte le strade che percorriamo devono essere strade che non siano di testimonianza, ma strade che portino a un risultato concreto per i cittadini. Voi sapete che io abito in una zona rurale, in una campagna, un altro dei punti importanti è quello della sponsorizzazione delle scuole. Voi immaginate che succederà tra nord e sud, tra città e campagna, zona urbana e centro rurale. C'è da meno un paesino come Rocca d'Aspide, Controne, chi va a sponsorizzare una scuola? Una faccelleria? L'unica che è rimasta? O il suo rumiere? Qua stiamo parlando di bambini che avranno un'educazione di serie A e di serie B. Quindi quello che noi stiamo combattendo, e cioè evitare che si spopoli le zone interne, perché noi pensiamo che siano il fulcro, il fulcro della campagna, il Cilento, le zone dell'Irpinia, le zone del Ponte Elementano, sono paesini che man mano perdono ogni anno centinaia di abitanti fino a diventare paesi fantasma. E con questo decreto che succederà? Proveranno ancora di più. Avremo la scuola che si comincerà ad avere i bambini con le classi miste e col poverino che c'è il negozio di ferramenta che gli dà quei 500 euro all'anno per comprare la vagnetta elettronica. E questo dobbiamo evitare. Da Napoli è tutto, arrivederci al prossimo video di Gilla TV.